Mi chiamo Luca Bucci, preparatore dei portieri nello staff di Donadoni, sono nato il 13369 a Bologna, quindi sono venuto nella città che mi ha dato i Natali e sono molto contento. C'è stato un momento della mia carriera che potevo venire a Bologna, poi non si è fatto nulla, mi sarebbe piaciuto appunto perché, per quello che dicevo prima, perché sono nato qui, però la carriera e la vita è fatta così e è arrivato in questo momento, vuol dire che questo è il momento giusto, me lo auguro e spero di rimanerci il più a lungo possibile. Ho iniziato a lavorare con il mister Donadoni da ormai 4 anni e mezzo, più o meno, quando ha sostituito, io ero al Parma come preparatore dei portieri, ha sostituito Colomba e da lì mi sono legato a questo staff con il quale ho un ottimo rapporto e è un modo di lavorare e pensare uguale. A tutti. E dire che costruire un portiere è merito di un preparatore dei portieri è un po' da presuntuosi, credo che Antonio abbia grandi qualità, le ho sempre detto, è uno dei portieri più forti in Italia, sono contento di ritrovarlo. Da quello che mi sembra, fin dall'inizio sono molto contento anche da Costa, Stoiano, Vissar, sono ottimi ragazzi e lavoratori ed è questa la base per lavorare bene e per migliorare.